Lunedì 22 luglio 2019, le prestazioni ordinarie erogate dal Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Chieti potrebbero subire sospensioni a causa di uno sciopero del personale. E' questo l'avviso che campeggia sulla pagina del Santissima Annunziata. A motivare lo sciopero del personale del Laboratorio Analisi del Policlinico Tietino, 22 tecnici e 15 dirigenti, proclamato per l'intera giornata di oggi dall'Unione Sindacale di Base del Pubblico Impiego e dalla CGL della Funzione Pubblica di Chieti e l'immobilità della ASL di Lanciano, Vasto Chieti, accusata di non sanare le criticità che affliggono il reparto. Mario Frittelli, segretario dell'Unione Sindacale di Base del Pubblico Impiego di Chieti, quali sono le ragioni che vi hanno portato a scioperare? Ci sono dei locali che non sono idonei per la sede del Laboratorio Analisi, ci sono macchine obsolete, un'organizzazione del lavoro assolutamente inaccettabile, quindi con stress e lavoro correlato da parte dei lavoratori che non può essere portato oltre. L'azienda si era impegnata all'istituzione di un tavolo tecnico permanente, quindi noi eravamo disponibili anche a soluzione del problema a medio e lungo termine. C'è stato un primo incontro, quindi come promesso al prefetto, c'è stato un secondo incontro, però tutti e due gli incontri interlocutori non siamo andati nello specifico. E al terzo incontro c'è arrivata una mail il giorno prima dicendo che l'incontro era rinviato, ha dato a destinarsi probabilmente per la settimana dopo. Questo è successo a maggio, non abbiamo saputo più nulla, ci sono stati dei tentativi per cercare di ricostituirlo, non c'è stato niente da fare, siamo stati costretti a proclamare lo sciopero. Nel giorno dello sciopero, che ha raggiunto la totale adesione dei dipendenti, ad eccezione di coloro che sono stati precettati per garantire le emergenze, la protesta dei lavoratori si concentra con un picchetto davanti al comune di Chieti in corso marrocino, per chiedere garanzie anche al sindaco Umberto Di Primio, mentre l'azienda sanitaria locale annuncia un piano per sanare le criticità strutturali. Sergio Zinni, segretario provinciale della CGL Funzione Pubblica di Chieti. Abbiamo incontrato il sindaco a cui abbiamo chiesto di far controllare se quei locali hanno i requisiti per avere l'agibilità. Siccome è un compito del comune di Chieti dare l'agibilità, cioè i regolamenti comunali, il sindaco ci ha assicurato che a breve manderà i tecnici del comune a controllare. A giorni dovrebbe essere nominato il nuovo direttore generale per poter interloquire con il nuovo direttore generale. E da domani di nuovo tutti al lavoro, con la consapevolezza però che la battaglia andrà avanti fino a quando non saranno risolte le criticità per garantire la sicurezza dei lavoratori e la qualità del servizio offerto.